Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto accessorico Nova Camera Slider. Dal 18 al 2 dicembre nuovo acquisto scorrimento serie K5. Ci forniscono un montante alto cappello 8x libero. Questo è il nostro nuovo modello marca. K5 è tranquilla, regolare e stabile, migliorare gli elementi di base del film e di cattura video. Quando l'avvento di HDS e LR riprese video, cursori sono diventati una parte essenziale di ogni cinema. La capacità di fare K5 cursore Dolly si muove può rendere la scena in modo molto più cinematografico. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.